ciao a tutti ragazzi sono insieme a fabrizio dolce mai lo conoscete tutti se non sto insieme a lui sto insieme a marco perché fabrizio mi ha fatto arrivare i gel di self home nutrition allora questi gel sono dei gel che io già ho provato perché stavano nel pacco omaggio all'evento everesting italy posso dire che sono dei gel ottimi però io ho uno sconto particolare uno sconto del 50 per cento perché ho questo sconto fabrizio allora ciao a tutti amici ciao allora fabio ha questo sconto perché come tutti gli everester che hanno fatto un everesting in italia questa azienda self home nutrition che collabora con noi ormai da diversi anni ci dà la possibilità di fare acquisti sul loro sito con uno sconto del 50 per cento avete capito bene ragazzi 50 per cento io per esempio ero l'ottocento trentottesimo in italia adesso quanti sono gli everester siamo arrivati a 1.300 cioè da ottobre adesso siamo a marzo prima di marzo mamma mia ragazzi quindi tutti gli everester che hanno fatto un everesting e hanno lo sconto del 50 per cento ma quanto vengono questi gel fabrizio ma è con lo sconto circa 26 euro sono 24 gel quindi l'euro e 10 gel sì sì ragazzi ok self home nutrition fa solo un gel fa tutti gli integratori dalle proteine barrette cereali di tutto quindi andate a vedere sul sito di self home nutrition e troverete tutto quello che vi può servire sul tutto ha uno sconto del 50 per cento sul carrello su tutto mamma mia ragazzi è uno sconto spettacolare però però diciamo una cosa diciamo una cosa dato che io c'è il canale youtube dato che c'è un sacco di follower questa la sparo di poi dimmi ti confermami se sbaglio oppure no per tutti i miei follower se io metto sotto in descrizione la tua email col tuo numero di telefono possono avere uno sconto del 50 per cento ok visto che fabio è uno dei nostri everester più affezionati forniremo il codice sconto anche ai follower di fabio quindi ragazzi cominciate a scrivere a martellarlo sia di mail che di telefonate che fabrizio vi farà avere questo sconto del 50 per cento che è uno scontone ragazzi non vi dico che sono regalati ma quasi come al mio canale grazie ok ragazzi andate a vedere i prodotti di self home nutrition e poi scrivete a fabrizio io me ne ho amato perché ti devo pagare io ancora ringrazio a fabrizio per questo sconto che mi ha fatto e questo sconto che farà anche a voi noi come al solito ci vediamo al prossimo video mi raccomando accendete la campanella e iscrivete al canale perché grazie ciao ragazzi